Eccoci e bentornati sul mio canale! Finalmente proviamo la demo di Uncharted The Nathan Drake Collection versione rimasterizzata, una vera e propria compilation che riproporà su PS4 il 7 di ottobre Drake's Fortune, il covo dei ladri e l'inganno di Drake in attesa di provare il prossimo anno Uncharted 4 Andiamo e proviamo questa demo demo che ci porterà a giocare il capitolo 5 del covo dei ladri Viaggia a te! Questo non ci voleva Hanno colpito un generatore Aiutami Ancora un po' Nate vai! Niente da fare Devo sistemarlo per tirarti fuori, ce la farai? Sì, peccato non abbia nulla da leggere Sembra che l'interruttore sia all'ultimo piano Aspettami qui, ci penso io Ok, dobbiamo far funzionare l'ascensore per far uscire la nostra gentile donzella Se non ricordo male Uncharted 2 ve l'avevo proposto sul mio canale diverso tempo fa quindi se vi siete persi il walkthrough andatevelo a rivedere Adesso ci giochiamo comunque questo capitolo 5 di Uncharted 2 Il covo dei ladri Ovviamente in versione rimasterizzata in alta definizione per PlayStation 4 Il corrente è una ragazza intrappolata Manca uno zombie dietro l'angolo e siamo a posto Porca miseria iniziamo Molto male Molto male Bravo Nathan Ehi! Te pareva Male che intanto abbiamo recuperato una pistola Quella è la cosa più importante Saliamo va? Ok Ok, bravo Perfetto Munition Munition Stiamo qua sopra Guarda che giro che stiamo a fa' Allora, se vi devo dire, graficamente mi sembra molto più pulito E nitido Che stai? Stava uno qua Eccolo Perfetto Muori Andiamo Questi ce li siamo fatti Oh cacchio Muori a papino tuo Allora, la granata Perfetto Adesso abbiamo pure il fucile Benissimo Ok Ora si che sia la giornata Pompa non mi dispiace Però forse alla distanza non è tanto comodo Riprendemola a K47 Allora, saliamo Dobbiamo cercare di far funzionare St'ascensore Vediamo Ok Oh Cacchio stanno Piano 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 Cacchio Non l'ho capito Belli Lo so Lo so Lo so Lo so perso Aspettate Dalle pentole E' andato E' andato quello No Pia miseria Perché mi faccio Troppo Piano 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 Bene Bravo Nathan Bravo Nathan Non capisco perché mi ha fatto il doppio salto Prima Eccolo Muori Appapino Muori Ok Da che parte saltiamo qua Vai Perfetto Nate Ti sei già dimenticato di me per caso? Allora qua non possiamo fare niente Qua bisogna scendere Aspetta Scendiamo Trovata Qua si può fare qualcosa Vediamo un po' Ma posso salire Perfetto Quindi penso che adesso si potrà aprire l'ascensore Eccolo Grazie a Dio Ci siamo quasi Su Su Bella Ehi Mi pare che inizia a piacerti un po' troppo Non c'è giusta scala va? Perfetto Arrivo Così ben ci sia nessuno Sembra Fin troppo semplice la cosa Allora andiamo a vedere Qua sopra C'è se c'è qualcuno Tutto tranquillo Ok Di qua Dove? Ah di qua No Piano Ci si arrampica ancora Eh si è il caso di farci l'abitudine Come sempre poi del resto Aspetta Beh Ci siamo Ora dobbiamo trovare il tempio giusto Eh Più facile a dirsi che a farsi Già Non dirmelo Forse potrei Ehi Bingo Eccolo là Proprio quello? Credo di sì Quello in mezzo a tutti gli spari e le esplosioni? Fortunati Nate E dove l'Azzarevi c'è accampato? Io speravo di andare nella direzione opposta Beh Sono tempi bui no? Drake avvistato nel settore 18 Oh merda Questo non è il settore 19 vero? Cercate in città Trovatelo e fatelo fuori Figlio di puttana Ok Dobbiamo andare Forza Nate Muoviamoci Bene Ci stanno pure a cercare Quindi stavamo messi veramente bene ragazzi Come arriviamo dall'altra parte? Come sempre Mi ce devo mettere io Oddio attenzione Oh cacchio Ecco sono qui Dammi la mano Vai Non fermarti Mamma mia Amico Amico Nathan Su Senza Nanimo Sì Oh no Metta Ora Riperì Ah Cacchio 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 Si vede c'è sta lancia razzi Quaggiù Lancia razzi qualcosa Quaggiù Oh Rialzati Tutto te Ma è stato meglio Ragazzi siamo sotto attacco Ci vediamo nel prossimo video Con la demo di Nathan Drake Al prossimo video Sempre qui Sempre sul mio canale